Un uomo di 49 anni di Giffonise Casali ha perso la vita in un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 sull'autostrada 30 Salerno Caserta. Miracolosamente salvo il figlio della vittima, un ragazzo di 12 anni, che è uscito illeso dall'abitacolo. L'incidente mortale è avvenuto sulla corsia nord della 30 nel territorio di Castel San Giorgio. L'autovettura alla cui guida c'era la vittima, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è ribaltata e il 49enne è deceduto sul colpo. Momenti terribili per il figlio che ha assistito alla morte del genitore. Sotto shock, il 12enne è stato accompagnato all'ospedale di Mercato San Severino per accertamenti. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo senza vita dall'abitacolo. Il traffico veicolare ha subito rallentamenti in direzione nord, con incolonamenti per circa un chilometro in direzione Caserta.